Eccoci qua, recuperati gli occhiali d'ordinanza la sera, questione di riflesso, guardate. Allora, io ho appena finito di guardare Foggia Taranto, ritornerò a parlare probabilmente già questa settimana di Serie B e Serie C, anche perché mi tocca seguirle anche per lavoro. Abbiamo fatto un piccolo saltino anche a livello regionale, sempre per il mio gruppo editoriale. Speriamo che vada bene. Però vi ho detto che avrei parlato di Napoli, Napoli come 3 a 1. Premesso la partita per il primo tempo non l'ho guardata, il secondo l'ho guardata molto distrattamente perché avevo avuto molto da fare. Che vi devo dire? Sono primi in classifica, comunque vada, manterranno il primato, almeno fin dopo la sosta. Pare che Lukaku neanche stavolta vada con la nazionale, almeno così mi è sembrato di capire. Primo gol di McTominay, primo gol di David Neres. E' un Napoli molto diverso, molto diverso da quello di due anni fa. meno brillante, più non dominante come quello di due anni fa. Però, secondo me, perlomeno in difesa a centrocampo più forte di quello di due anni fa, come individualità. Perché Conte, io ho l'impressione che stia più gestendo che insegnando calcio, ora a Napoli. Perché le squadre di Conte, Juventus compresa, nel passato, anche Chelsea, Tottenham anche, a Financo Tottenham, ma Tottenham non vince con nessuno. La mano di Conte si è vista sin da subito. La caratteristica aggressività, il gioco, il dominare, il pressare, la fame, si è vista subito. Sin da subito. Alla Juve, al Chelsea, in Nazionale, all'Inter, al Tottenham. Si è vista, insomma. Qui a Napoli, invece, stiamo scoprendo un Antonio Conte gestore e meno talebano nel suo 3-5-2. Decisamente meno talebano. Penso che sia più lui che si stia adattando agli uomini che ha, quando era sempre stato quasi il contrario, nelle scuole dove è allenato. tanto è vero che il Napoli non gioca un calcio che ruba l'occhio. però vince le partite. Però le partite le vince. Le vince con il peso delle sue individualità. Perché il Napoli... Io non so, probabilmente da Ozyman a Lukaku, forse c'è stato un piccolo passo indietro, forse. anche se io... Ragazzi, se io sono sincero, io stesso ho giudicato, e giudico ancora, la carriera di Lukaku come una buona carriera, con un picco, un grande picco all'Inter, per poi tornare bene o male ai suoi livelli. Lukaku, attenzione, i gol li ha sempre fatti. Lukaku, i gol li ha sempre fatti. Però, sia ora, sia alla Roma, sia quando è andata al Chelsea, non abbiamo visto quel giocatore che si caricava letteralmente la squadra sulle spalle come l'abbiamo visto all'Inter. Dove, secondo me, nel primo ciclo, non nel ritorno con Simone Inzachi, naturalmente, nella stagione 19-20 e 20-21, no? Abbiamo visto un giocatore che si caricava letteralmente sulle spalle della squadra. Qui, invece, no, stiamo vedendo il realizzatore, cioè il calciatore che abbiamo visto all'Everton, in minima parte allo United e al Chelsea, e anche alla Roma, o anche il nazionale, o anche il nazionale. Stiamo vedendo a Napoli, Lukaku della nazionale belga. Giustamente, c'è anche da dire che Lukaku ha quasi sempre giocato in un attacco a due. Lui, a fare da boa, e l'altro a girare all'intorno, Lautaro, Dybala, occhi per lui. all'United, Rashford, eccetera, eccetera, insomma. Qui, c'è un un attacco a tre punte abbastanza consolidato, e Lukaku fa, funge da punta centrale, da tridente, non da punta centrale e fa salire la squadra. Lui, questo lavoro, lo fa comunque. Però, io, l'altra volta che ho guardato il Napoli, vi feci notare una roba. La posizione, fate caso, la posizione di McTomin in campo. Fa molto, perché, perché per me è determinante in questa squadra. è già determinante in questa squadra. Lo so, sarò anche fissato. Ma per me McTomin in questa squadra è determinante. È l'acquisto top che ha fatto il Napoli. Perché lui, funge, fa esattamente quello che faceva a Manchester. Il pendolo, dal centro campo, e l'attacco. Un ruolo che a Manchester era consolidato. Fa un po', lui a Manchester faceva quello che facevano Scholeskine, quelli là, naturalmente con qualità non a quei livelli, però neanche troppo lontana. In fase offensiva, se voi notate il Napoli, è un 4-2-4. Quindi, Conte, parzialmente, rinuncia alle proprie idee. Lui, forse, ha capito una cosa, che non può adattare giocatori, come Quaraschegli, a Politano, al suo credo calcistico, al credo calcistico, perlomeno, che ha avuto fino a pochissimo tempo fa. Del resto, all'Inter, quando Conte andò al leader, fu lui stesso a mandar via Politano. Nella stagione 19-20, se non sbaglio, fu lui stesso a far mandare in prestito Politano, a gennaio al Napoli. Fu lui stesso. Adesso parte titolare, perché, a differenza di quando andò all'Inter, Conte, stavolta è lui ad adattarsi ai calciatori. Perché, da uomo intelligente quale, sa benissimo qual è la matrice di questa squadra. Quel 4-3-3 che con spalletti ha fatto quello che ha fatto. No. Lui, lui, adesso, con l'acquisto di Mectomene, ha preso due piccioni con una fava. Quara e Politano, o Neres, che oggi ha fatto gol, e Neres è forte, può anche essere il vice Quaraschelia, Neres. All'Ajax giocava nella posizione di Quaraschelia, Neres. Lui, mantiene gli esterni larghi, come sono sempre stati a Napoli, facendo salire Mectomene in fase offensiva. Lui questo fa. Quando il Napoli attacca, Mectomene è molto vicino a Lukaku. Fa da pendolo. E, in pratica, sulla carta, è un 4-2-3-1, ma ha conti fatti, è un 4-2-4 mascherato. È un 4-2-3-1 in fase di non possesso. È un 4-2-4 in fase di possesso. Questo fa Conte con Napoli. Affidandosi molto, scendendo a molti compromessi, secondo me. E in questo momento i risultati gli stanno dando ragione. Sono sincero, è un Napoli, o la squadra di Conte, che stavolta fa meno paura a guardarla di quando ne facesse l'Inter, di Conte. però i risultati li ottieni. E poi, giustamente, come mi si faceva notare, c'è un altro acquisto che in pochi sottolineano, me per primo, che è Buongiorno. Ragazzi, questo ragazzo gli ha sistemato la difesa al Napoli, eh? Che lo scorso anno si è spesso parlato erroneamente dei problemi difensivi del Napoli come figli della partenza di Kim. No! Perché era tutta la squadra ad essere regredita. Non era solo questione di Kim. Difatti, Kim al Bayern non è che si stia ricoprendo di gloria. Kim al Bayern. Kim al Bayern farà la fine di De Ligt. Ve lo scrivo, ve lo metto per iscritto. Kim al Bayern di Monaco farà la fine di De Ligt. Ve lo dico. Perché? Perché, vedete, voi dovete capire una cosa. Quando si parla di il dibattito inutile fra giochismo e risultatismo, anche perché siamo tutti risultatisti, anche i giochisti, non lo ammettono, o meglio, non se ne rendono conto. Alcuni non lo ammettono, altri non se ne rendono conto perché sono talmente stupidi e conformisti che, vabbè, lasciamo stare. le squadre dicendi giochiste hanno un picco altissimo però durano di meno. Durano di meno. Il Milan di Sacchi è durato meno del Milan di Capello. E in Italia ha vinto molto meno del Milan di Capello. E anche di quello di Ancelotti. il Milan di Sacchi c'è ci fu quel diciamo biennio fra l'88 e il 90 e l'inizio del 90 dove veramente era una squadra ingiocabile. Ingiocabile. Poi però comincio a calare. Tant'è vero che il terzo anno i giocatori non ne potevano più di Sacchi si era perso lo scudetto si era perso la Coppa Italia io ricordo quando il Milan vinse la seconda Coppa dei Campioni di fila contro il Benfica sì fu festeggiata tutto quello però dall'ambiente vicino al Milan dall'ambiente parlo di stampa di opinionisti eccetera eccetera quella Coppa dei Campioni fu quasi vista come una parziale consolazione dello scudetto perso con il Napoli da Monetina di Alemau eccetera eccetera Bologna la sconfitta di Verona eccetera eccetera ma cosa voglio dire che quel Milan era già in calo il Milan del aprile maggio 89 per me è stata la squadra di club con l'Ajax di Cruyff più forte che sia mai esistita il Milan dell'aprile maggio 89 è stata la squadra di club forse più forte che sia mai esistita il picco poi comincia a scendere mentre così con giocatori di affidamento praticamente si sono invertiti i ruoli fra Napoli e Juventus adesso la Juve pare aver sposato la linea di andare a scovare gente che ti ha le exploit ti fa queste exploit mentre Napoli piglia gente di curriculum e di affidamento e al momento infatti gli stanno dando ragione no ragazzi perché se poco poco questi migliorano l'assieme di squadra guardate che non sarà mica facile scalzarli da quella posizione là io continuo a ritenere le milanesi più forti del Napoli per me le milanesi sono più forti del Napoli e la Juve non gli è inferiore almeno questo però questo Napoli è un'incognita già così è prima in classifica e attenzione il visita eh ma il Como si 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 guardatelo come gioca il Como ce lo voglio vedere quando trovo le altre grandi il Milan nel Como guardate che quelli che abbiamo fatti prima noi e poi loro contro il Como sono tre punti d'oro eh perché il 3 a 1 il risultato bugiardo bugiardo da quel che mi è perso di capire certo non è che il Napoli meritasse la sconfitta all'Olas assolutamente però il divario fra le due squadre che si è visto è molto meno netto di quel che sembra perché il Como gioca bene a calcio e che fa delle puttanate in difesa si col Sussione dal basso gioco di possesso spettacolo tiki-taka ma un conto il tiki-taka è la partenza da dietro e farla con Puyol Piché Dani Alves e Giordi Alba un conto è farla con la difesa del Como dai non facciamo ridere eh invece Fabrica si è imposto questo suo credo e è così però ha fatto stare la partita è stata molto più equilibrata di quel che dica il punteggio però il Napoli signori il Napoli è lì non solo la squadra ma anche i ricambi il Napoli cioè non commettiamo l'errore di pensare che prima o poi crollano perché questi non crollano io non ho mai visto alcuna squadra di croll di croll si di conte crollare alla distanza che croll ma gara a Napoli croll pagherebbe rolo per averlo in difesa nonostante tutto per riaverlo in difesa il grande Rudy quindi il Napoli non ruba l'occhio ma ha in testa la classifica signori e noi possiamo girarla e voltarla come vogliamo contano le partite vinte e anzi vi dirò di più le prime due partite dove il Napoli la prima ha persa malamente a Verona la seconda vinta un po' così col Parma io vi dico una roba che secondo me il Napoli meritava di perdere molto più col Parma che col Verona perché io la partita col Verona me la ricordo se nel primo tempo di Verona Napoli Napoli avesse fatto quattro gol non c'era nulla da dire non c'era nulla da dire nel secondo tempo poi piglia l'imbarcata difensiva al primo contropiede ma il Napoli fino al primo gol del Verona aveva dominato letteralmente la partita col Parma col Parma se non fa quella stronzata quel portiere che non so manco da dove cazzo sono andati a prendere il Napoli la perde quella partita e l'avrebbe anche meritata di perdere col Parma il Napoli quindi la Caporetto di Verona va un po' vista con beneficio di inventario chi pensava da un Napoli sulla falsa riga di quello dell'anno scorso non ha capito niente o chi pensa ancora a un Napoli sulla falsa riga di quello dell'anno scorso non ha capito niente non ha capito niente c'è solo da augurarsi che il Napoli sia questo fino alla fine della stagione perché se poco poco migliorano nel gioco questi qua questi non hanno più le sbandate che potevano avere le sbandate gioiose magari il primo anno con Spalletti che giocava benissimo il Napoli però 5 sconfitte in casa perché il Napoli poteva vincerlo anche già l'anno prima lo scudetto a mio avviso poi 5 sconfitte in casa e va bene occhio a questo Napoli occhio a questo Napoli perché è molto diverso da quello di due anni fa ma sarà più duro da buttare giù occhio perché questa è una squadra che non muoiono mai è un Napoli concreto e con giocatori di alto livello veramente di alto livello iscrivetevi al canale ok Grazie.